A dieci anni dal terremoto nessuna scuola, sia di gestione comunale che provinciale, è stata ricostruita, ma non solo. Secondo i consiglieri comunali Angelo Mancini e Giustino Masciocco, mancano un piano e una programmazione. E fatta eccezione per le scuole chiuse a causa degli indici di vulnerabilità a zero, gli studenti aquilani, stando ai dati, continuano a frequentare scuole con indici bassi e in alcuni casi, come si vedrà, collaboratori non sicuri al 100%. Mancini ha ricordato, come nel piano straordinario per le scuole del sindaco Pierluigi Biondi, come misura urgente si prevedesse addirittura di effettuare una ricognizione degli spazi pubblici per capire dove collocare gli studenti in attesa di fare le verifiche di vulnerabilità su edifici comunali. Masciocco e Mancini hanno analizzato la situazione scuola per scuola, partendo da quelle comunali hanno evidenziato lo stato delle verifiche affidate per il primo e per il secondo lotto, cose messe in piedi hanno ricordato dall'ex amministrazione. Tolte le scuole chiuse di cansatessa e apertura da rischia, le altre hanno indici di 0,330 o 0,220 in alcuni casi e dunque a rischio, ha proseguito Masciocco. Per quanto riguarda il terzo lotto, le indagini e le verifiche sono state affidate dall'Aggiunta Biondi su stanziamento di somme accantonate dall'ex amministrazione Cialente. Le situazioni più critiche hanno rilevato, stanno su quarto, quinto, sesto e settimo lotto. Qui mancano le indagini sulle strutture e le verifiche sismiche. Per la Dante Alighieri, hanno detto poi, non c'è neanche l'incarico e si parla di una scuola che in totale, considerando pure paganica, ha circa 700 alunni. Nessun tipo di gara, ribadito Masciocco, per 90.000 euro di previsione di spesa. L'unico dato certo, secondo i due, riguarda la Maria Leventre che si sta ricostruendo e poi, chiaramente, la scuola di Arischia, alla cui consegna dei lavori, è venuta solo da cuori giorni. In altri casi, sia ancora nella fase delle indagini sui terreni e delle relazioni geologiche, gli alunni sono nelle stesse scuole dove stavano prima della campagna elettorale del 2017, hanno rilanciato, non c'è neanche un piano per riportare le scuole in centro e questa è essenziale, almeno una per ogni ordine e grado propongono. Dal Comune alla provincia la situazione per i due non cambia. I consiglieri hanno mostrato il programma triennale dei lavori pubblici 2019 e 2021. Gli edifici più importanti da abbattere, ricostruire o migliorare i sismicamenti, si ha fatto notare Mancini, sono il convitto Ipsia Sarra e Palazzo Quinzi. Il convitto ad oggi si trova in via Ficara e ha perso molti convittori e semi convittori. Una struttura che per Mancini va riportata in centro. Per quel che riguarda l'Ipsia Sarra ad oggi, l'uscita su via Aldomoro è bloccata, gli alunni entrano dal parcheggio, all'interno dell'edificio c'è un corpo e da demolire. Nel programma, si legge, sono previsti lavori per demolizione e adeguamento dei laboratori per 7 milioni di euro, ma nel 2021, per cui secondo i due, gli studenti attualmente usano laboratori non sicuri. Altro caso, quello dell'ITAS, dove si vorrebbe fare un parcheggio. Nelle quattro scuole strategiche, hanno detto, si prevedono finanziamenti al terzo anno. In alcune non terremotate, invece, i soldi del Cipe ci sono per il primo anno.